Il narcisista ti blocca e poi ti sblocca, dando la colpa a te del fatto che ti ha bloccato, chiedendoti, ad esempio, come dici giustamente, perché non ti sei fatta sentire. Questa è una strategia tipica dei narcisisti, che, diciamo, sono eteroattributivi, cioè attribuiscono agli altri la responsabilità. Quindi ogni volta che hai a che fare con una persona che si comporta in questo modo, tieni presente che si tratta proprio di un narcisista, tieni presente che si tratta proprio di una persona che ha questo tipo di caratteristica. Ed è anche un modo per capire che hai a che fare con un narcisista. Chi ti blocca, poi ti sblocca e ti chiede perché tu non ti sei fatta sentire, è la prova del 9 che è un narcisista. Iscriviti al mio canale YouTube Massimo Tremasco, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi anche su tutti gli altri miei canali. Ti ricordo che sui canali ti puoi anche abbonare. Abbonare se è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati che sta vicino a tastina iscriviti.